Dopo l'acqua, il tè è la bevanda più bevuta al mondo e può essere un ottimo modo per aumentare il consumo giornaliero di acqua, oltre che per dare caffeina al corpo. Assumere almeno 75 milligrammi di caffeina per porzione può migliorare la concentrazione. Herbalife Nutrition impiega i migliori ingredienti e i fornitori più affidabili per produrre i suoi infusi a base di erbe. Il nostro estratto di tè verde proviene dai nostri impianti in Cina. Infuso a base di erbe è una miscela unica di orange pico, una varietà di tè nero tradizionale e tè verde con estratti di fiori di malva e ibisco e semi di cardamomo. La miscela di tè è ottenuta con lavorazione ad acqua per preservare lo spettro completo delle sostanze. Infuso a base di erbe Herbalife Nutrition contiene 85 milligrammi di caffeina e circa 6 calorie per porzione. Disponibile in quattro gusti deliziosi può essere consumato freddo o caldo. Un infuso per integrare i livelli di caffeina e idratare l'organismo. Per ulteriori informazioni contatta subito il tuo distributore indipendente Herbalife Nutrition.